Il bilancio attuale per Morgan Freeman è un braccio rotto, un gomito rotto e un matrimonio finito. Già perché dal suo letto d'ospedale a Memphis, in Tennessee, dove ora giace con fratture multiple dopo il gravissimo incidente stradale in Mississippi di domenica scorsa, l'amatissimo attore afroamericano ha annunciato la fine del matrimonio con la moglie Mirna Colley Lee dopo 24 anni di unione. Il divorzio arriva dopo che si è scoperto che Freeman, a 71 anni, in quella macchina al momento dell'incidente non era solo. Con lui c'era infatti quella che è stata definita una sua amica, la 48enne Demaris Mayer, che in realtà era una vecchia amica, anzi ex amica, della moglie di Freeman, nel più classico dei triangoli. In realtà fa sapere il portavoce di Freeman sugli schermi in questi giorni con il Cavaliere Oscuro una specie di separazione per motivi legali e pratici nella coppia c'era già dal dicembre del 2007, ma certamente la ribalta di questi giorni ha accelerato la rottura e forse fatto perdere il sorriso a Morgan Freeman che subito dopo l'incidente, malgrado le ossa rotte, era apparso lucido e cosciente, anzi si era perfino messo a parlare e a scherzare con i soccorritori che lo portavano in ospedale. E pensare che molto recentemente, intervistato un evento mondano sulla voce di una separazione chiesta dalla moglie, Freeman si era mostrato scioccato. Non so niente di questo suo desiderio. Aveva detto l'attore premiato con l'Oscar nel 2008 per Million Dollar Baby. Alcuni amici di Freeman fanno notare che il debole per le belle donne l'ha sempre avuto, ma stavolta con la moglie l'incidente si è rivelato definitivo.